Bazzucchi di Parla 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 Sì Ce l'abbiamo fatta Ho 42 anni per Tu sei nudo Perché le aggiungi Play No Non voglio giocare Voglio playare Però Ha una Cioè È tipo Non lo so Io mi sono soltanto guardato il trailer Ma il problema è che c'erano tutti questi tizi in giro Che facevano Non è che facevano la macarena però Cioè c'erano i tizi che erano tipo sul focolare Ah la mia sedia Comunque Irgli alfa e non è ancora in beta Beh Però Per essere in alfa Può essere già bello Molto bello Allora Io sceglierei 5 di intelligenza Per forza Poi Fortuna 3 Tecnologia 3 E questo Almeno 4 Forza Fai tipo 4 Fai Tutto 4 4 4 A parte intelligenza 5 4 4 4 4 E tipo fai un po' così Poi Seleziona un po' di Ah E allora fai anche 5 questo 5 questo 5 questo 5 questo 5 questo Tutto 5 Perfetto Perfetto Poi fai più 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 No Basta Ok Va benissimo Inventory Inventario Clicca il tasto destro Per accedere ai contenuti del menù Ok Va bene Black market Mercato nero E craft Per craftare le cose Ma il problema è Cioè Come no Materials Come no che io ho le robe World map Si PvP Ma Cioè E' fantastico sto gioco Journal My quest Cosa Monster hunting Cosa Capture Boh Accetta Che si ho capito Come si esce da sto coso La ghicchia un po' eh No no Non devi tirare pugna Niente Nessuno Ragazzi Non è il computer Ma Ce l'ha scritto Spesso Anche Nelle cose Non è il mio computer Ma C'è scritto Eh L'ho pickuppato Aspetta Che è quella roba Prendi anche il libro Dei monaci e manuensi No no Non devi camminare Sopra il letto Oh Che infarto Chi è sto qua Ancola Adam Zio Adam Safe L'ho capito che è safe Non mi ricordo già più come si accedeva all'inventario Ops Q No non era Q Z forse Spazio Spazio Ok Ok Adesso ragazzi Devo andare a mangiare Però Cioè Sinceramente Non ho Ops Mi si è aperto a schermo Perché? Cioè non è Ah non è a schermo intero Ah ho capito Ok Ok Inventory Cos'è? Pietra O No Lo voglio utilizzare Ah ok Comunque ragazzi Il gioco sembra Fantastico Adesso vado Ma Mi sembra molto bello Comunque Per questo gameplay è tutto Ci vediamo alla prossima E Ciao